ASTEL è l'associazione confindustriale che riunisce 53 imprese delle TLC nazionali per 120 mila dipendenti e un fatturato di 36 miliardi di euro all'anno. Alma Fazzolari è delegata di ASTEL e l'abbiamo voluta interpellare per farci spiegare bene nel significato di una certa terminologia che viene usata da più tempo negli ultimi anni nel mondo della mobilità. Mobilità 5G, connettività, realtà aumentata, intelligenza artificiale, machine to machine, sigle varie, tutto in funzione della sicurezza stradale, ricordiamocelo. Però la gente non capisce, quando parli di 5G che vuol dire quinta generazione, Pensa subito, perché ho il telefonino più veloce, ma 5G vuol dire tante cose. Parliamo di cosa vuol dire 5G legandolo alla mobilità, Alma Fazzolari. Il 5G legandolo alla mobilità vuol dire soprattutto un mondo interconnesso che permette di dare sicurezza al 5G sfruttando un protocollo cellulare che di per sé ha all'interno la criptazione e la sicurezza. Ma cos'è che dà come valore aggiunto un protocollo cellulare alla sicurezza stradale? Il fatto che il protocollo cellulare riesce a connettere tutto il mondo circostante, quindi le famose machine to machine che sarebbe collegare oggetti e non solo persone. Quindi vuol dire che si riesce ad avere informazioni da un'enorme quantità di oggetti che sono le auto, le infrastrutture, i pedoni, i ciclisti, ma soprattutto da informazioni sia in visibilità che senza visibilità. Questa è l'enorme differenza. Quindi vuol dire che io riesco ad avere, io, cioè le macchine tra di loro, riesco ad avere informazioni anche, ad esempio, di un'automobile che a 200 metri dalla curva sta arrivando in direzione contraria. Piuttosto che se c'è un incidente parte la chiamata di emergenza in automatico, vengono avvisate immediatamente tutte le auto che si dirigono verso quel luogo. Piuttosto che se si attiva il tergicristallo perché c'è una bomba d'acqua immediatamente, tutte le macchine dietro hanno l'informazione. E quindi si riesce a prevenire, come si riesce anche a prevenire, una traiettora di impatto tra pedoni, ciclisti e automobili. Quando avremo uno scenario, diciamo, completamente favorevole a questa nuova tecnologia, se ne parla, ci sono già delle applicazioni, ricordiamolo, però ovviamente siamo ancora lontani da un'applicazione vera e propria. 2030, 2040? Allora, per dare una data, se oggi potessimo iniziare da zero, abbiamo già degli ambienti dove è tutto già smart, è tutto già nuovo, e quindi già c'è l'auto addirittura con la guida autonoma. Per poterla avere tutti quanti, abbiamo due elementi abilitanti che ci servono. Uno è avere un'infrastruttura estesa, che già l'infrastruttura radiomobile è quella più estesa che abbiamo in Italia, ma per averla estesa al punto giusto, dobbiamo agire a livello anche di governo e a livello delle istituzioni, e quindi sul fondo elettromagnetico, per avere gli stessi fondi a livello europeo, perché se no abbiamo un problema competitivo, quindi l'Italia rimane indietro rispetto all'Europa. L'Europa cosiddetta unita, vediamo per esempio il problema dell'elettrico, ci sono prese in un certo modo in un certo paese, prese in un altro modo, diciamo anche a livello fiscale, disparità e quindi si crea solo confusione. Quindi come deve avvenire per il mondo del green, ovvero sia delle alimentazioni, così anche nel mondo delle tecnologie. Una uniformità. Sì, perché se no siamo svantaggiati a livello Italia rispetto al resto dell'Europa, perché loro fanno un'infrastruttura con X siti, noi per fare la stessa copertura dobbiamo fare X per 100 siti, e quindi rimaniamo indietro. L'altro elemento abilitante è il cambio generazionale dei device. Device vuol dire sia il telefonino con cui uno parla, quindi tra persone, sia le machine to machine che sarebbero quello che permette di dialogare tra oggetti. Tra auto e auto. Tra auto e auto, auto e infrastruttura, auto e altri elementi che sono dalle smart city, da smart home e tutto quello che ci circonda. Per fare questo è importante riuscire a soprattutto non avere più dei device che funzionano solo su una rete 2G. E per ovviare a questo non occorre, come si sta facendo in alcuni ambiti europei, spingere per avere un prolungamento di una rete vecchia come il 2G, ma piuttosto accelerare il cambio generazionale e far sì che ci siano degli incentivi in legge di bilancio e degli incentivi che vanno a incidere sia sul cliente finale sia sulle aziende, in particolare l'automotive, in maniera che tutte le machine to machine 2G only migrino in quello che si chiama narrow band IoT, che sarebbero delle machine to machine di ultima generazione. 4G e 5G. Con questi due elementi abilitanti riusciamo a velocizzare. Una data importante è che nel bando di gara del 5G, per la prima volta, c'è anche un capitolo dedicato alla mobilità ed è il capitolo legato alla banda 700 MHz, dove gli operatori tutti insieme hanno dei vincoli per coprire le principali tratte autostradali. Per concludere, Europa, Stati Uniti, Cina, in testa la Cina, in testa gli Stati Uniti, non dico l'Europa perché ho già la risposta. Allora, parlo a livello prettamente tecnico. Sì. Allora, sicuramente, come abbiamo visto anche in questi giorni, c'è proprio l'evento a Shanghai, il salone dell'auto, perfetto. Quindi la tecnologia in Cina sul 5G è molto avanzata. Negli Stati Uniti è importante ricordare quello che l'FCC americana, che sarebbe la Federal Communication Commission, ha sancito tra fine anno e inizio 2021, soprattutto sul fatto che ha decretato che l'utilizzo di protocolli basati sul vecchio Wi-Fi non sono reputati sicuri e ha deciso di dedicare la banda a 5 e 9 unicamente al protocollo cellulare CV2X e al Wi-Fi interno, quindi per le evitazioni. CV2X vuol dire, ricordiamo? Cellular Vehicle to Everything. X si può sostituire con la P se Vehicle to Pedestrian, quindi verso il pedone. Vehicle to I, sarebbe E Infrastructure, quindi infrastrutture. Poi c'è il V2N, N sta per Network, e quindi si utilizza la X per dire qualsiasi cosa. Non ci resta che aspettare a questo punto. Speriamo di anticipare il più possibile, avendo dei limiti, diciamo, più vicini possibile a quelli europei e un cambio generazionale dei device in maniera che poi avremo una tecnologia che ci permette di collegare tutti quanti in sicurezza. Grazie ad Alma Falzolari, di Astel, grazie a voi che ci avete seguito da casa. Grazie tantissime per l'invito.